Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi si va avanti con le sfide della settimana numero 6 di questa season 8 di Fortnite. Un'altra delle sfide particolari di questa week è senz'altro quella che ci chiede di cercare il punto esatto segnato dal coltello nella schermata di caricamento. Schermata di caricamento che per la seconda volta viene richiamata per una missione settimanale. Avevamo visto la lente di ingrandimento? Beh ragazzi il coltello ovviamente è quello lì in alto che vi sto pingando e non è difficile capire dov'è la location esatta. Torniamo quindi al nostro gameplay. Come vedete sto dirigendomi verso la casa dei supereroi. Non mi interessa intanto la casa ma mi interessa atterrare proprio qua davanti a me. Come vedete già lo starete notando c'è una parte di prato diversa generalmente dove sponano le stelle ed è proprio questa ragazzi che ci interessa per recuperare la stella segreta che verrà appunto mostrata non appena ci arriveremo. Beh ragazzi direi che anche per questa sfida la soluzione è fatta. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Codice creator. Xiu Derone è partita l'outro. Ciao!